Parla di valori a cui non rinunceremo e di una Francia sotto attacco, il presidente francese Emmanuel Macron dopo i recenti attentati a Parigi e Nizza. Un Macron diverso da quello che nel 2018 descriveva gli attentatori come persone radicalizzate e con profili psichiatrici variegati. Non è cambiato Macron, è cambiata la Francia. Sono cambiati i francesi, sempre più insofferenti, verso un governo incurante delle loro condizioni di vita. Parigi ne è consapevole e ha deciso di cavalcare l'onda della minaccia islamica. Il presidente turco Recep Erdogan e altri leader musulmani hanno adottato la stessa strategia, lanciando anche il boicottaggio dei prodotti francesi nei loro stati. I popoli intanto continuano a vivere sullo stesso terreno di prima, così fertile per la radicalizzazione. Con la firma di una dichiarazione congiunta del ministro della difesa israeliano Benny Gantz e del capo del Pentagono Mark Esper, gli Stati Uniti si sono impegnati a garantire il vantaggio militare di Israele in Medio Oriente. A tale proposito, stando a quanto riferito dal canale televisivo israeliano Channel 12, senatori americani bipartisan si sono messi al lavoro per rendere possibile la vendita a Israele della regina delle bombe anti-bunker, la GBU-57. Infatti la legislazione attuale ne vieta la vendita al di fuori degli Stati Uniti. Presto in Israele, la superbomba in grado di distruggere le strutture nucleari dell'Iran. Titola l'articolo di Channel 12. Dopo aver approvato il 21 ottobre la vendita di tre tipi di armi a Taiwan per un valore di 1,8 miliardi di dollari, l'amministrazione Trump ha fatto il bis questa settimana con un nuovo pacchetto da quasi 2,4 miliardi. La mossa potrebbe rappresentare una svolta rispetto alla precedente politica di Washington, che prevedeva la vendita a Taiwan di armi di tipo difensivo. Come osserva il sito di notizie Defense News, grazie alle nuove dotazioni, Taipei sarà in grado di fermare una potenziale invasione cinese colpendo porti, basi aeree e altri obiettivi militari dall'altra parte dello stretto di Formosa. Intanto la Cina prepara sanzioni contro i soggetti coinvolti nella compravendita, tra cui Lockheed Martin, Boeing Defense e Raytheon. Il presidente turco Recep Erdogan ha minacciato di lanciare una nuova operazione militare nel nord della Siria, se i gruppi armati kurdi non verranno allontanati dalle zone di confine. Il leader turco ha anche accusato Mosca di non volere una pace duratura nella regione. Lunedì 26 ottobre le forze armate russe hanno condotto un raid nella provincia siriana di Idlib contro i guerriglieri di Faila Kasham, sostenuti dalla Turchia, facendo decine di vittime. Del 23 ottobre invece l'attacco missilistico su un mercato illegale di petrolio nei pressi di Geraboulos. Da questo tipo di mercati il petrolio siriano viene trasportato a un mercato in Turchia, con il presunto coinvolgimento della famiglia Erdogan nelle attività di contrabbando.